Sì, grazie Presidente, molto meno. Io volevo ringraziare i proponenti per questa delibera molto importante, per la velocità con la quale è stata redatta, ma soprattutto con la tempestività con la quale sono state trovate delle soluzioni a questo problema enorme che ci ha consentito a tutti noi di poter continuare a svolgere il nostro compito. Concordo con i colleghi che l'aula è oggettivamente insostituibile, che ha una caratteristica per cui l'interlocuzione anche tra forze politiche è ben più agevole di persona piuttosto che con questa modalità e poi anche la sacralità dell'aula in cui noi abbiamo l'onore di rappresentare i cittadini romani è tale che veramente non si possa tornare indietro o mettere da parte. Io sono intervenuto comunque anche per un altro motivo in particolare, ben capendo che l'aula ha una sua importanza ed è bene che noi releghiamo solo a momenti effettivamente necessari il dovere effettuare le aule da remoto. Io personalmente ho un'idea completamente ribaltata per quanto riguarda le commissioni, io credo che sia utile dirlo anche in quest'aula, le commissioni da remoto hanno una trasparenza, un'opportunità per i cittadini di poter partecipare, una facilità e una gestione tale che è diametralmente opposto il giudizio rispetto alle aule svolte in videoconferenza. È assolutamente positiva la sperimentazione che abbiamo effettuato con le commissioni, io ho anche dei cittadini che sono molto contenti di questo, anche perché adesso i video vengono pubblicati in forma registrata sul sito di Roma Capitale, per cui se qualche cittadino interessato non era nelle condizioni di poter assistere alla commissione può rivedere tutta quanta la commissione, per cui da quel punto di vista noi dobbiamo necessariamente continuare su quella strada e ci dobbiamo continuare con determinazione. Cosa diversa invece è l'aula dove io condivido pienamente il giudizio che hanno dato i colleghi che sono intervenuti prima di me. Concludo ringraziando ancora i proponenti di questa proposta di delibera e ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa proposta di delibera. Grazie.